Un boom di espositori che crescono dell'8% rispetto allo scorso anno, con il 10% in più di aziende straniere presenti, l'8% in più di barche esposte, 80 delle quali visibili direttamente sulle banchine e negli spazi in mare. Sono i numeri del Salone Nautico di Genova 2017, alla sua 57esima edizione presentata nel capoluogo Ligure. Obiettivo superare le presenze dello scorso anno, consolidare il trend positivo per il settore della nautica emerso dai dati degli ultimi mesi. Sarà un grande salone, un salone con tantissime novità, è un salone grande perché abbiamo riempito le darsene, abbiamo riempito i capannoni, abbiamo saturato gli spazi che avevamo a disposizione e questo è merito delle aziende che hanno tenuto duro in questi anni di crisi, che hanno tenuto in piedi il salone. Una kermesse che si apre alla città tra eventi collaterali e manifestazioni. Quindi questo salone è una delle punte dell'offerta turistica di Genova, ma è anche una delle punte dell'offerta industriale del nostro paese, che è la seconda manifattura del nostro continente e non è banale costruire un'offerta interessante intorno a questo mondo.